salve oggi abbiamo una domanda classica diciamo così gesù è un rivoluzionario certo ma non in senso politico non in senso marxista non in senso fascista è un altro tipo di rivoluzionario noi usiamo queste parole con molta superficialità rivoluzione è una parola che viene dall'astronomia che indica il corso rotatorio di un pianeta intorno alla stella la terra intorno al sole compie una rivoluzione cioè come se ritornasse al principio ricominciasse una cosa nuova ogni volta che inizia l'anno gesù inizia una cosa nuova davvero è ma non ritorna su se stesso no ci porta ci proprio ci proietta nel cuore di dio questo fa gesù cristo questa è la cosa nuova ed è da prendere con le molle questa affermazione perché l'idea della rivoluzione che il passato viene azzerato no quando c'è stata la rivoluzione francese volendo cambiare tutto e persino il nome dei dei mesi l'hanno cambiato tutto il modo di esistere della chiesa il modo di esistere la società azzerare ricominciare questo non lo fa gesù senti senti questo vangelo che è preso dal discorso della montagna ha detto poco prima beati i poveri in spirito ha fatto le beatitudini una cosa nuovissima mai sentita beati i poveri beati quelli che piangono beati misericordiosi adesso dice queste parole vedi vedi un po come sono non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti non sono venuto ad abolire ma a dare pieno compimento altro che abolire altro che azzerare in verità io vi dico finché non siano passati il cielo la terra non passerà un solo iota un solo trattino della legge senza che tutto sia avvenuto la legge antichissima data a mosè chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto sarà considerato minimo nel regno dei cieli chi invece li osserverà e li insegnerà sarà considerato grande nel regno dei cieli la legge sì nei minimi particolari a mappero ma come quella legge così pesante quella legge che ci toglieva la vita quella legge oppressiva e che non è più oppressiva Gesù cambia le cose non cambia la legge la legge è l'indicazione del bene e il fatto che è oppressiva perché lo è la legge è oppressiva è la nostra incapacità di fare il bene allora la vera rivoluzione di Cristo è che con lui puoi fare tutto puoi fare il bene fino in fondo compiere non la legge soltanto ma il cuore della legge l'amore fondamento di ogni legge nella scrittura è l'amore e questo che era impossibile che è impossibile senza Cristo perché ci scontreremo sempre a un certo punto col nostro egoismo col nostro desiderio di costruirci col nostro desiderio di apparire cioè impossibile compiere la legge con Cristo diventa possibile questa possibilità di bene senza limiti è la rivoluzione di Cristo ed è pronta questa possibilità per la tua vita ti benedica il Signore e ti protegga